OCCUPIAMOCI DI UNA PAROLA E DI UN CONCETTO Che, ahimè, stanno passando di moda. La parola e il concetto sono quelli di democrazia, che, come sapete, è un termine che deriva dal greco antico e che letteralmente significa governo del popolo, cioè governo che è espressione della volontà di una maggioranza del popolo, che si forma, ma, appunto, liberamente, in occasione di libere elezioni e che, quindi, è considerato il vertice massimo a cui è arrivata la forma di gestione del potere nelle società evolute. Bene, oggi ci viene detto che la democrazia è in pericolo. Il problema è che moltissimi dei nostri opinionisti di riferimento, dei nostri giornaloni di riferimento, vanno manifestando, palesando, maturando queste preoccupazioni soprattutto attraverso un'osservazione di ciò che accade in casa ad altri, in particolare di quello che accade oggi, perché è una parola anche questa sulla bocca di tutti, in quello Stato che risponde al nome di Afghanistan. In Afghanistan non c'è più la democrazia, ci viene detto, in Afghanistan ci sono i talebani, in Afghanistan c'è una dittatura incipiente che toglie i diritti a tutti, soprattutto alle donne, ed è tutto un coro di dolore per questa situazione che oggettivamente, obiettivamente, ha un che di grave e quindi va senz'altro denunciata. Ma la domanda che dovremmo porci è un'altra. È proprio vero che la preoccupazione per le sorti appunto della democrazia la possiamo provare soltanto aprendo una finestra in quel paese dell'Asia centrale oppure in realtà faremo meglio a dare un'occhiata a casa nostra? Beh, se mettiamo in fila tutta una serie di punti o di puntini, se preferite, potremmo accorgerci che in realtà motivi di preoccupazione, e direi piuttosto grossi, li avremmo e li abbiamo anche semplicemente dando un'occhiata a quello che accade all'interno dei nostri confini. Pensiamo molto semplicemente a quello che è il governo attuale in Italia, un governo che è espressione di una maggioranza che una volta si sarebbe definita bulgara, oggi probabilmente, più appropriatamente, potrebbe essere definita cecena, stiamo parlando dell'80 e oltre per cento delle forze parlamentari che sostengono l'attuale compagine governativa, numeri da fare invidia a quei regimi che sicuramente democratici non sono e che imperversano in molti luoghi del mondo, vantando proprio il fatto di avere dalla loro l'appoggio di una maggioranza appunto spropositata della popolazione e dei partiti in Parlamento. Quindi questo è un primo campanello d'allarme, ma ce ne sono anche altri, come vedremo. Per esempio, il nostro è un paese che è letteralmente appeso, lo apprendiamo tutti i giorni accendendo la televisione, ascoltando qualsiasi canale televisivo, è letteralmente appeso agli aiuti finanziari esterni che arriveranno da fuori. L'Italia, il suo futuro, i suoi giovani, il futuro delle giovani generazioni, dipende, ci viene detto, dal Next Generation EU oppure dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oppure dal Recovery Fund, tutti nomi diversi per definire una sola realtà, fiumane di soldi, che vengono appunto da oltre confine, che vengono da una istituzione e da evidentemente dei generosi erogatori che sono situati in un posto che non è l'Italia. Bene, c'è qualcosa di male in questo. Diciamo che c'è qualcosa di preoccupante per le sorti di una democrazia, nella misura in cui dobbiamo tener conto che qualsiasi democrazia degna di questo nome, intesa quindi come modello di autogoverno di una comunità nazionale, ha bisogno non solo di funzionare attraverso libere elezioni, attraverso una dialettica parlamentare, ma ha bisogno anche di strumenti perché le decisioni prese in quelle istituzioni possano essere poi portate ad ama, possano essere poi condotte fino in fondo. Il primo di questi strumenti, come universalmente noto, è la banca centrale. La banca centrale di un paese, prestatrice illimitata di ultime istanze di moneta domestica, è quella cosa senza la quale una democrazia difficilmente può funzionare, proprio perché carente del polmone in grado di pompare ossigeno, sotto forma di liquidità, sotto forma appunto di denaro, nelle casse del paese e nelle tasche dei cittadini. Bene, noi questo strumento, questa sorta di polmone, lo abbiamo perduto, come sappiamo, da oltre vent'anni, entrando in quella macchina perversa che risponde al nome di euro da un punto di vista squisitamente monetario e di Unione Europea da un punto di vista istituzionale. Ma il problema è anche doppio oggi, perché uno potrebbe rispondere ma tutto sommato abbiamo queste centinaia, centinaia di miliardi che arriveranno comunque dall'Unione Europea in un modo o nell'altro. In realtà più che in un modo arrivano nell'altro, cioè più che nel modo giusto arrivano nel modo sbagliato. Si tratta infatti sostanzialmente e soprattutto di soldi che noi prendiamo a prestito dall'Unione Europea sotto forma appunto di prestiti per una misura pari a 127,4 miliardi o sotto forma di sussidi per una misura pari a 81,4 miliardi. Quindi o sono prestiti che dobbiamo restituire o sono sussidi che però non sono a gratis. Dobbiamo ovviamente contribuire per alimentarli e considerato che daremo probabilmente almeno una cinquantina di miliardi di questi contributi alla fine della fiera ci resterà in tasca nell'arco di circa sette anni una trentina di miliardi per così dire realmente nostri, realmente dati a fondo perduto e quindi non da restituire. Ma non è neanche questa la cosa peggiore. La cosa peggiore, quello che i giornali non dicono mai, è che tutta questa paccata di miliardi noi avremmo potuto tranquillamente ottenerla volendo dai mercati semplicemente indebitandoci come abbiamo sempre fatto in passato e l'avremmo ottenuta dai miliardi e dai mercati senza condizioni. Invece l'Unione Europea questi soldi, questi 127,4 miliardi più 81,4 miliardi ce li dà a condizione che facciamo i famosi compiti per casa e cioè che rispettiamo un numero di condizioni sapete pari a quanto? Pari a 528. Dobbiamo fare 528 compiti per casa. Quindi non solo questi soldi non li generiamo attraverso una banca centrale che non abbiamo sostanzialmente più perché la nostra moneta viene da fuori, ma sono tutti soldi che riceveremo solo se in quanto nella misura in cui ci adigueremo a delle condizionalità decise non a Roma ma a Bruxelles. Roma deve limitarsi a verificare che queste condizioni siano tutte rigorosamente rispettate. E quindi ditemi voi se questo può essere compatibile con un regime che viene definito democratico, quindi espressione della volontà non di potentati esterni che si trovano allocati a Bruxelles piuttosto che a Francoforte, ma di reali voleri dei cittadini che appartengono alla comunità nazionale di riferimento. Da ultimo, tanto per tastare sempre il polso allo stato della nostra democrazia, potremmo guardare a quelle che sono le condizioni del dibattito pubblico. Di cosa si può veramente discutere in Italia? Fateci caso. Si può discutere solo di questioni inessenziali che hanno un carattere per così dire estetico o addirittura cosmetico, cioè piccoli dettagli inconferenti, ininfluenti, che spostano poco o nulla, per esempio decidere se vincolare un miliardo in più o in meno al Green New Deal invece che alla digitalizzazione, decidere se e come utilizzare i famosi fondi condizionati dell'Unione Europea a livello cronologico, quindi nel 2022 piuttosto che nel 2023. qualsiasi altro dibattito reale su ciò che realmente interessa la vita e il futuro dei cittadini è bandito nella misura in cui esso metta in discussione quello che è il pensiero unico del regime a reti unificate. La riprova lo avete su un tema caldissimo, importantissimo, come quello della gestione del virus o della gestione del vaccino o della obbligatorietà del vaccino. È ammessa una sola linea di pensiero e tutti coloro che provano a deviare da questa linea, provano a proporre soluzioni alternative o provano semplicemente a manifestare la loro legittima perplessità rispetto a ciò che viene calato dall'altro, vengono immediatamente bollati come pericolosissimi novax che oggi fanno quasi rima con il termine di terroristi o di, appunto, insidiosissimi eversori dell'ordine stabilito. Bene, mettete in fila tutti i punti che vi ho elencato e sono solo alcuni dei molti che avrei potuto citare e avrete quello che è il quadro senza la cornice, la cornice la potete mettere voi, della nostra democrazia attuale. Io credo che, alla luce di quanto esposto, non sia davvero necessario andare in Afghanistan per lanciare dei lamenti e per iniziare dei pianti sconsolati sulle sorti della democrazia del XXI secolo. Il vero problema non credo che stia lì o comunque non sta solo lì, ma sta purtroppo anche e soprattutto qui a casa nostra.